La conca di Europa completamente abbandonata a se stessa, la funivia, la cestovia ed anche il rifugio Savoia sono divenuti oggetto di atti vandalici. Dietro agli episodi vi sarebbe la mancanza di personale che possa presidiare gli impianti ed anche la mancanza di un sistema di videosorveglianza. Andiamo ogni tanto, è giusto per vedere che sia tutto a posto e proprio nell'ultimo sopralluogo abbiamo visto che sono stati presi di mira il gabbiotto della cestovia a Valle e del rifugio Savoia. Ci piange il cuore, in particolare all'ex rifugio sono entrate delle persone rompendo vetri e porte. Non so nemmeno se cercassero qualcosa, così ha commentato il presidente delle funivie di Europa, Jonathan Pirali. Mi chiedo che senso abbia andare in montagna e poi comportarsi così. Di fatto non c'è più nulla lì dentro, non ha proprio senso fare queste cose, così ha chiusato il presidente. Impossibile risalire ai responsabili, infatti al momento non ci sono telecamere che saranno previste poi nel nuovo progetto. La conca di Europa è purtroppo ormai abbandonata a se stessa.